E' stato scoperto un nuovo approccio nella scelta dei farmaci per il trattamento dei soggetti con malattia infiammatoria intestinale. Questo nuovo studio è stato condotto dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e dall'Università del Salento. Sentiamo. Uno studio condotto e coordinato dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e dall'Università del Salento apre la strada un nuovo approccio nella scelta dei farmaci per il trattamento dei soggetti con malattia infiammatoria intestinale suggerendo un metodo per individuare precocemente i pazienti che hanno scarse possibilità di risposta agli inibitori per dirottarli dunque su un altro biologico. Gli italiani affetti da una malattia infiammatoria intestinale equamente distribuiti tra retto colite ulcerosa e malattia di Crohn sono almeno 250.000 Si tratta di patologie impegnative per le quali però i pazienti possono contare su tante diverse terapie. Per questo è molto importante la diagnosi precoce seguita da un trattamento tempestivo. Utilizzando un approccio combinato tra analisi cliniche e modelli sperimentali, spiega il dottor Loris Lopetuso, gastroenterologo della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, i risultati dello studio hanno individuato una sottopopolazione di non risponder agli anti-TNF, gli inibitori del fattore di necrosi tumorale, ovvero anticorpi monoclonali sintetici impiegati a scopo terapeutico, caratterizzati da alti livelli di una proteina infiammatoria estremamente potente. Nella seconda parte di questo studio è stato utilizzato un modello animale, il topo. Il gruppo di ricerca, che ha coinvolto centri in Italia e negli USA, ha valutato la possibilità di bloccare la cascata infiammatoria utilizzando una terapia biologica e documentando una buona risposta degli animali al trattamento, riduzione dello stato infiammatorio intestinale e dei livelli di cellule infiammatorie intestinali. Lo studio infine dimostra l'importanza di ricercare fattori di risposta alla terapia biologica e fa segnare un passo avanti nella direzione della medicina personalizzata e di precisione.